Musica Ciao a tutti amici sono Shark e bentornati in questo nuovo episodio Ciao anche da Steve che vi saluto oggi oggi allora innanzitutto perdonatemi perdono 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 è successo un inconveniente tecnico tattico praticamente Camtasia non mi ha registrato più di 40 minuti di video e già purtroppo in questi 40 minuti io ho fatto questo ho fatto un mega ponte ora vedete le immagini da qualche parte non so in editing ve le mettere in alto in basso non lo so praticamente ho fatto un punto di collegamento con il portale del nether che poi sistemeremo anche quello perchè ragazzi fatto così non mi piace ho una mezza idea di cosa farci vedete ragazzi non ho ancora finito di farlo perchè c'è ancora molto da fare ma non ho avuto tempo per finire lo sistemare questo lo finisco di fare a 3 cammine spente bene oggi invece andiamo a cioppare un po' di legno ragazzi mi sono procurato quello che ci serve cioppiamo un po' di legno perchè siamo un po' corto con quello della giungla ne abbiamo usato parecchio per fare le fence so che non è di qua la giungla ragazzi però prendiamo anche l'altro tipo di legno facciamo un episodio tranquillissimo oggi sperando che Cantasia non faccia l'ingheppo e mi rovini anche sta registrazione ragazzi perdonatemi se a volte largo non viene non vengono editati i video a un modo ma non so che cavolo ha Camtase detto questo ragazzi continuiamo continuiamo andiamo a fare un po' di legna con la tre shop è facilissimo farlo meno male mi serve molta legna ragazzi perchè ho l'intenzione di fortificare la mia zona ma siccome non voglio farla tutta in pietra perchè inizialmente volevo farla in pietra poi però non non sarebbe stato fattibile la cosa quindi ho deciso di farla sia in pietra che in in cobblestone no in cobblestone in stone scusate mamma mia ciò il raffreddore ragazzi se mi sentite la voce più stramba del solito è per quel motivo l'uomo ok dai ciò che non è troppo d'alberi vediamo un attimo e vai e vai quanto abbiamo fatto finora non stacca 17 pezzi buono ora vi vorrei far vedere anche come ho intenzione di fortificare la zona ragazzi ci servirà tanto legno tanto materiale si lo so sono un pazzo perchè a fare queste cose qui è veramente in survival è veramente da pazzi ma ragazzi a me piacciono le sfide un po' meno mi piace quando minecraft si blocca porca miseria vabbè inconvenienti tecnici tattici c'è c'è troppo di legno perché minecraft dai non mi largare forza non so che stia succedendo ragazzi a minecraft comincia veramente a rompermi le scatole questa storia qua maledizione maledizione poi ovviamente ragazzi faremo anche una specie di faremo una specie di una specie di farm di alberi ovviamente non sarà possibile farle tutte perché noi abbiamo tutti i sapling però mamma questo è grosso vediamo un attimo ce la faccio si ce la faccio fanno tutti gli alberi più alti così ho un un botto di legna vediamo un attimo quasi tre stack ma io ne prenderei un altro po ma tanto male un fa proprio tutto quello che dobbiamo farci meno male che è gratis ragazzi se no vediamo se non mi davo una patta eh questo qui lo devo rompere così tranquillamente non uso l'altra ascia perché perché allora ma sì continuiamo a cioppare vieni un altro po' di alberi il tempo è necessario di fare tre stack dai 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 su dai carciofo ci siamo ci siamo le ci siamo cinquantasettolo 63 ah mi manca uno vabbè sti cavoli ho battuto un altro albero chi se ne ho battuto anche un altro e fu così che buttai giù l'intero modo di minecraft no non è possibile buttarli tutti giù però vabbè ormai ormai finiamo quest'ascia una pecora dai a te ritorno ok butto giù quest'albero e ho capito che non ho scusatemi se il video di oggi verrà corto ma ho delle cose da fare ragazzi e non posso non posso stare molto a registrare scusate mi farò perdonare con il prossimo episodio eh ragazzi dov'è casa aspettate un attimo che cerco casa off camera scusate ragazzi 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 scusatemi se riprendo il video così all'improvviso siamo nei guai abbiamo perso casa ragazzi scusatemi ancora se il video viene più corto del previsto ma io devo stoppare qua e che ho degli impegni oi maledetto osso buco ora più o meno anche va bene ragazzi per il momento vi saluto sperando di riuscire a cavarmela da shark il pro di steve è tutto che avrà una freccia di sicuro nel deletano da shark e steve ciao a tutti raga al prossimo episodio ciao a tutti